Ciao, sono Gianluca Bocci e sono qui a brevissimo tempo dall'ultimo giveaway per festeggiare 3.000 iscritti oggi sono qui per festeggiare per appunto i 4.000 iscritti se non sai chi è Gianluca Bocci ti rimando qui sopra al benvenuto del mio canale che magari si è arrivato qui perché hai visto appunto che c'è un prodotto in regalo infatti per ringraziare voi che mi seguite questa volta vi regalo uno speaker bluetooth uno speaker bluetooth oltretutto impermeabile attenzione non è che lo potete pucciare dentro l'acqua se volete vedere uno speaker che può essere pucciato nell'acqua ve lo rimando qui sopra a scheda ma questo potete comunque attaccarlo anche a una ventosa sulla vetrina della vostra doccia e cantare del buon rock mentre appunto vi lavate la mattina ma cosa dovete fare per poterlo vincere? allora innanzitutto i classici avvisi né google né youtube né la victising produttora di questo speaker sono coinvolti in questo concorso che è un'iniziativa personale di titolare del Gianluca ovvero Gianluca Bocci ovvero il sottoscritto secondo avviso obbligatorio è che questo concorso è rivolto soltanto a residenti in Italia questo perché lo speaker vi arriverà a casa in forma del tutto gratuita non dovete neanche pagare le spese di spedizione però appunto io per potervelo spedire dovete avere un indirizzo in Italia quindi se siete all'estero sorry non fa per voi regole allora prima regola dovete essere iscritti ovviamente al mio canale youtube trovate il link qui sotto magari potete anche cliccare sulla campanellina così vi arriva anche un'notifica ogni volta che pubblico un nuovo video che insomma se amate il mio canale vi farà anche piacere seconda cosa dovete mettere il mi piace sulla mia pagina facebook Gianluca Bocci foto più parole trovate il link qui sotto in descrizione insieme a tutto il riassunto delle cose da fare cliccate su mi piace fatto semplicissimo terza cosa da fare dovete seguirmi su instagram anche qui il link al mio profilo instagram che comunque è gianluca.bocci lo potete cercare oppure andate qui sotto sul link cliccate su segui fatto questo facilissimo ultima cosa da fare con un po' più di attenzione sui commenti qui sotto dovete inserire un commento per l'appunto in cui scrivete il vostro nome reale su facebook e il vostro nome reale su instagram questo verrà appunto perché voglio controllare che chi magari si aggiudica lo speaker bluetooth abbia rispettato tutte le regole poi cosa succederà? tra due settimane esatte da oggi il mercoledì 21 marzo 2018 alle ore 21 farò una live in cui farò appunto l'estrazione del vincitore ma sarò anche a vostra disposizione ormai come da tradizione per rispondere a tutte le vostre domande sulla fotografia, sull'audio o qualsiasi cosa abbiate la curiosità di chiedermi tutto qui se avete dubbi sul concorso utilizzate non i commenti qui sotto mandate sulla mia pagina facebook appunto Gianluca Bocci foto e parole e scrivetemi lì tranquilli che nel giro di uno o due giorni rispondo sempre a tutti per qualsiasi dubbio anche quello appunto sul giveaway per vincere questo speaker bluetooth tutto da doccia tutto qui se poi non vi siete ancora iscritti il bollino ve lo metto sempre lì in alto e se volete vedere un altro video ve lo propongo uno qui a Funko e grazie ancora per i 4.000 iscritti e alla prossima